Sindaco, un'assemblea popolare in cui sono emerse diverse soluzioni a lungo e a breve periodo, un'assemblea partecipata, già questa è un'ottima notizia. Sentivamo la necessità sin da subito in realtà di poter avere un momento con la comunità nel quale condividere un po' le impressioni, le emozioni, la tragedia che ha caratterizzato e che ha investito il nostro territorio, non solo evidentemente per fare quasi un'analisi di quello che è capitato, ma soprattutto per ragionare in termini di prospettive. Quello che noi sosteniamo in maniera forte come amministrazione è che questa tragedia sia una tragedia collettiva e che sia importante, ancora di più importante, che la comunità sia partecipativamente nel percorso di ricostruzione. Un'altra leva su cui si muove adesso il vostro agire è quello dell'agire insieme con gli altri comuni, ha dato una notizia, c'è una convenzione con gli altri comuni colpiti. Sì, ci siamo resi conto per quanto già da diversi anni il percorso di collaborazione istituzionale nel Montiferro sia avanzato, che anche in questo caso, e devo dire soprattutto in questo caso, dovessimo fare fronte comuni tra le amministrazioni colpite per gestire non solo l'emergenza, ma ragionare in termini di pianificazione per la rinascita del territorio. Così ci siamo costituiti con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni in un subambito che abbiamo appunto chiamato Prosu Montiferro, un po' cogliendo anche quello che era l'emotività e le iniziative popolari, per dire una cosa, che vogliamo lavorare assieme, non solo per governare gli interventi immediati e urgenti, soprattutto legati al dissesto idrogeologico, ma soprattutto rendendoci conto come il Montiferro sia un'entità unica che supera i confini comunali, come tutto ciò che riguarda la pianificazione e la programmazione degli interventi di ricostruzione debbano essere fatti assieme, tra amministrazioni e coinvolgendo in prima linea le comunità locali. Le risorse quali sono? Quelle regionali, 20 milioni annunciati, siete convocati a breve per questo? In realtà allo stato attuale è in corso la discussione in consiglio regionale per quanto riguarda una serie di provvedimenti, tra cui quello dei 20 milioni di euro. Ci sarà una proposta che vogliamo fare come territorio, condivisa con le amministrazioni, per indirizzare secondo noi meglio e in maniera più efficace gli stanziamenti della regione Sardegna. Il 9 saremo sempre in consiglio regionale, però in audizione con la Commissione Parlamentare dell'Agricoltura e ribadiremo questo concetto. È stato poi fatto appunto il provvedimento nazionale con l'ordinanza del Capo della Protezione Civile che definisce alcune linee operative. Sicuramente non si tratta solo di stanziamenti attuali, ed è quello che vogliamo solicitare, ma la necessità di impostare in maniera più ampia e certamente di maggiore respiro quelle che sono le politiche a favore del territorio, a favore della rinascita della montagna e della filiera bosco. Nel breve periodo si parla molto, se ne è parlato anche stasera, di rischio idrogeologico. È un rischio concreto questo? Assolutamente sì. Purtroppo è un rischio concreto e vi è una corsa contro il tempo per evitare il momento nel quale incomincerà la stagione delle piogge, con un grande auspicio, che però è un auspicio evidentemente più che altro di speranza, che non avvengano appunto delle calamità anche sul tema delle piogge, ovvero che non siano piogge torrenziali, cui sicuramente il territorio non è pronto. Anche per questo sollecitiamo la Regione perché si adotti con urgenza il provvedimento che consente alle amministrazioni di avere le risorse proprio per intervenire in maniera forte sul dissesto idrogeologico. Oggi molti hanno puntato il dito contro il corpo forestale, insomma al netto delle polemiche anche a volte antipatiche. È un corpo che va comunque riformato, anche secondo lei? In queste settimane diciamo i ragionamenti che si sono fatti a livello istituzionale anche con la presenza del Ministro Patuanelli vi è sicuramente un dato, ovvero quello che in tema di normativa e legislazione anche dal punto di vista delle politiche forestali collegate agli incendi probabilmente bisogna rivedere determinate cose. Certamente il tema della riforma o del rinnovamento del corpo forestale, così come anche dell'Agenzia Foresta è un tema che è anche presente nell'agenda politica del Consiglio regionale e sono sicuro che vuoi anche per questo evento probabilmente il percorso di riforma debba essere accelerato. Un'ultima cosa, ha parlato anche di distretto forestale oggi. Sì, una delle proposte che stiamo facendo come Montiferro è quello di poter dare attuazioni, di voler dare attuazioni a quanto previsto dalla legge forestale regionale, quella del 2016, che prevede appunto la declinazione di vari livelli di pianificazione sul tema delle foreste e credo che il Montiferro oggi più che mai per questa tragedia debba lavorare immediatamente per la redazione del piano forestale territoriale di distretto, appunto del distretto di Montiferro, uno dei 25 individuati dalla regione, proprio perché da qua dobbiamo partire, dalla pianificazione di rango sovracomunale per poter definire strategie e modalità non solo di tutela e di presidio, ma anche di valorizzazione, perché no, economica e quindi a fini anche turistici, affinché le comunità possano riappropriarsi in maniera forte del territorio.